Ok, e visto che questo corso parla di scripting, facciamo l'anatomia dell'unico scripting che abbiamo introdotto. Questo script magari lo semplifichiamo anche, poi magari metterò la versione vera. Quindi togliamo delle parti che ho visto che sono anche di troppo. A noi interessa soltanto la parte che muove. E' che direi che è semplicemente la parte sotto, quindi togliamo proprio tutto, do move, questo. E così la vediamo poi meglio. Update, rotate, eccetera. Ma direi che non ci sono errori, quindi dovrebbe essere tutto. Cancelliamo anche la parte di animazione, anzi lasciamo, perché magari in una futura lezione faremo vedere che cosa succede. Allora, descriviamo questo script. Allora, lo script in Unity parte con una parte che sono gli using. Using sono praticamente tutte le librerie che vengono usate nello script. In questo caso noi usiamo soltanto Unity Engine che sono le parti più importanti, cioè quelle per sopravvivere. Quindi, visto che queste non servono al momento, le selezioniamo e le cancelliamo. Quindi, using Unity Engine vuol dire che noi stiamo lavorando con le parti base di Unity. Notate che quasi tutte le righe terminano con punto e virgola. fanno eccezione le righe che subito dopo hanno una graffa aperta, oppure le righe che hanno direttamente una graffa chiusa. Quindi, se volete una regola per capire quando mettere il punto e virgola, provate a seguire questo schema. Quindi, va bene tutto, cioè dobbiamo sempre mettere il punto e virgola, a meno che subito dopo non ci sia una parentesi graffa. Dopodiché ci sono queste... C'è la dichiarazione del nostro script, in cui si definisce public class player controller. Ecco qui, l'unica cosa da ricordarsi è che player controller deve essere esattamente il nome, con la stessa sequenza di minuscole e maiuscole, con cui è scritto il file. Se non è così, non funzionerà nulla. Quindi, se fate una classe che si chiama player controller, dovete metterla dentro player controller, con la P e la C maiuscola. .cs ve lo metterà lui, ma il nome è importante. Queste classi dipenderanno tutte da mono behavior, che è una sorta di super intelligenza che ha impostato Unity, e poi sotto abbiamo, sotto la graffa, un elenco di variabili, che sono le cose, le scatolette di memoria in cui lo script mette le sue cose. Allora, quando sono public, vuol dire che queste cose compariranno al di fuori, si vedranno nel progetto. Quindi, in particolare, intanto per renderci conto, sono quelle che compaiono sotto lo script. Quindi abbiamo script, il nome va bene, ma poi abbiamo character controller, speed, camera holder, eccetera. E sono esattamente questo. Se le cambiamo, quindi se mettiamo, ad esempio, il character controller, lo spostiamo, e lo mettiamo sotto camera holder, quindi ctrl-c, ctrl-v, sto facendo. E poi tutte queste cose qua, le mettiamo al termine delle public. Poi facciamo ctrl-s. Quando torniamo su Unity, dovrebbe, in teoria, vedete che ha cambiato l'ordine. Quindi, a seconda di dove volete che compaiono queste impostazioni, qui, nell'interfaccia di Unity, potete lavorare qua. Quindi public float, public float. Quindi la prima parte è la parte delle variabili pubbliche. Quindi, in particolare, qui vogliamo poter lasciare alla persona di controllare la velocità. Quindi, se vogliamo mettere che si muove molto velocemente, possiamo modificare questo 3. E lo possiamo fare direttamente da qua. Nel senso che possiamo, speed 3, possiamo mettere speed 10. E a questo punto, facendo il play, il carattere si muoverà molto più velocemente. Quindi questa è la cosa. Facciamo escape e facciamo stop. Poi, ci sono delle informazioni che invece sono effettivamente private, nel senso che non potete impostarle da fuori, come ad esempio il valore della gravità, che è un 9,87f, che vuol dire in virgola decimale, float, floating point. E invece la velocità verticale 0, che vuol dire che non si va in alto, non si va in basso. Allora, update è un evento che viene chiamato ogni volta che il gioco genera un frame. Quindi praticamente viene chiamato tipo 60 o 100 volte al secondo. e ogni volta che si viene chiamato, qui viene fatta prima una funzione di move e poi l'eventuale rotate. Quindi si muove se si premuto Wax e si ruota se si è mosso il mouse. Quindi qui in questo script è stato gestito il movimento attraverso i cratteri oppure la rotazione attraverso il mouse. Quando si fa awake cosa succede? Che viene tolto il mouse. Awake vuol dire quando si sveglia il programma, quindi all'inizio dei tempi, il nostro script toglie la freccia, la freccina del mouse e non si vede più. Quindi cursor lock state, locked, e cursor visible, false, che vuol dire che non si vede il mouse. La freccina non si vede. Non so se ci avete fatto caso, ma sparisce la freccina. Poi abbiamo visto che c'è una funzione che qui l'update chiamava prima move e poi rotate. La move è una funzione privata. Qui tra l'altro c'è anche una privata e una public. Quando è public vuol dire che può essere anche chiamata esternamente. Quindi qualcuno può ruotarci. Ma noi direi che facciamo private. Quindi sono tutte private. Move cosa fa? Va a prendersi le informazioni del... Qui la chiama axis. Axis, gli assi, sono delle cose associate al joystick piuttosto che al mouse. Quando si fa horizontal o vertical sono quelle cose che sono associate al WASD. E sono già preimpostate. E credo che sia impostato anche le freccine. Quindi semplicemente si prende di quanto deve spostarsi in questo numero. Questo numero indica se deve muoversi orizzontalmente perché ha premuto AD. Oppure la freccina a sinistra o la freccina a destra. E vertical invece sarebbe l'altro asse che sarebbe il WS. Oppure freccina in su, freccina in giù. Allora, poi il carattere quindi prende queste informazioni per sapere dove muoversi in avanti o indietro. Verifica se il carattere controller è grounded perché è a terra altrimenti imposta la velocità a zero. la velocità verticale perché si sta precipitando ad esempio qui imposta la velocità di precipitazione che è ottenuta dalla velocità precedente riducendo la velocità praticamente di un fattore dettato da quanto tempo è che sta andando avanti. Questa cosa qua serve solo per simulare il salto nel vuoto. E poi cerca di capire quant'è la gravity move. Allora, se non cadete questa informazione vale zero quindi vedete che move decide dove si va decide se si sta cadendo quindi noi in questo caso non stiamo cadendo e poi cosa fa? Prende il ottiene un movimento ottenuto dal transform forward dove transform è la direzione in cui stiamo guardando quindi prende il vettore cioè la direzione davanti a noi cerca di capire quanto si deve muovere in avanti o a lato che sono vertical move che sarebbe questa informazione che abbiamo ottenuto con AD quindi cerca di capire se dobbiamo andare avanti o indietro e poi prende l'horizontal move per sapere se andare a sinistra e a destra quindi così ha ottenuto praticamente un'informazione di dove deve andare e in più prende associa questo move anche la gravità quindi se sta cadendo normalmente è zero questa cosa qua e noi volendo potremmo anche forzare dicendo questa cosa qua non la teniamo in considerazione la gravità per non farlo cadere quindi se facciamo così praticamente eliminiamo la gravità e la gravità vedete che qui c'è gravity move che diventa un errore quindi facciamo slash asterisco fino a qua ok togliamo anche il più perché se no è un errore quindi quindi questo fattore lo togliamo quindi facciamo che noi non cadiamo ok quindi così giriamo senza cadere e se e questo è tutto il movimento invece la rotazione serve per vedere se siamo sul mouse se siamo sul mouse dobbiamo ruotare la telecamera quindi prende la posizione del mouse per capire in che direzione ruotare la telecamera verifica come è ruotata attualmente la telecamera fa un pochino di calcoletti e cerca di non far ruotare troppo la telecamera e poi dice semplicemente la telecamera di ruotarsi per un montare che è simile a quello indicato dal mouse quindi noi andiamo a vedere adesso nel nostro giochino adesso abbiamo tolto la gravità quindi se noi facciamo il play vedete che adesso se noi andiamo fuori ecco se andiamo fuori dal seminato non precipitiamo questo praticamente ci siamo resi non sensibili alla gravità mentre invece con escape se noi riabilitiamo il pezzo della gravità che era quello che avevamo abbiamo tolto prima quindi mettiamo di nuovo i pezzettini che calcolano la gravità fino a qua riapplichiamo facciamo ctrl s e poi andiamo nel nostro gioco facciamo play ok facendo play adesso quello che succede è che se noi chiediamo andiamo verso il oltrepassiamo la nostra cosa vedete che cadiamo giù quindi abbiamo visto qual è l'effetto di questi pezzi di codici quindi questo qua che praticamente is grande vuol dire che era già in contatto con un'altra cosa e poi per il momento gli togliamo questo come avete notato se gli mettiamo o meno la gravità dipende da da quanto realistici vogliamo essere allora questo video come avete visto è un po' lungo anche se non capite tutte le scritte non è importante sappiate che poi per via rechat queste cose non dovete metterle perché ce le ha già via rechat ma il fatto di avere la possibilità di muoversi all'interno dello schermo per fare delle prove in questa versione la ritengo molto utile ok 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 grazie a tutti